Procuratore, nella sesta provincia, nella BAT, c'è una criminalità ben definita, eppure questo territorio viene da sempre considerato un territorio cerniera tra le province di Bari e Foggia. Il tentativo che lei sta facendo è invece quello di far emergere, dare, se vogliamo, tra virgolette, dignità alla criminalità del territorio, della BAT. Guardi, per poter elaborare qualsiasi forma di strategia nel contrasto della criminalità occorre innanzitutto fare una diagnosi dell'esistente, cioè capire che tipo di criminalità abbiamo di fronte. La particolarità della BAT del circondario di Trani, circondario del mio ufficio, è che mancava completamente un'analisi specifica dei fenomeni criminali del territorio. Questo lo si vede anche in alcune relazioni di importanti agenzie. Pensi, ad esempio, alla relazione della Commissione parlamentare antimafia del 2018, che è stata una relazione, da molti punti di vista, lungimirante, ha colto cose che non erano mai state colte prima per ciò che riguarda la Puglia, però saltava completamente la BAT. C'erano in quella relazione cinque province, non sei, e i comuni della BAT erano analizzati nel paragrafo di Bari o nel paragrafo di Foggia. Non intendo sminuire i meriti di quella relazione, che sono tanti, in particolar modo con riferimento alla provincia di Foggia. Ma certo, non c'erano ancora elementi acquisiti che consentissero di capire ma che succede in questo territorio. Allora, il lavoro che si è cercato di fare era proprio quello di raccogliere elementi che però esistevano, disseminati qua e là. E allora incomincia a verificare l'indice criminale del territorio, che vede la BAT al primo posto per alcune tipologie di reati tra 107 e 108 province in tutta Italia. Prima per furti di auto, prima per rapine in appartamento e nei primi dieci posti per molti altri reati. E ancora altre analisi, la qualità della vita, l'indice di infiltrazione criminale. Indice di infiltrazione criminale nell'economia. La Banca d'Italia a fine del 2021, e quindi parliamo dell'anno scorso, elabora uno studio interessantissimo. Nel quale si va a peritare e a colorare di rosso le regioni che hanno più un'infiltrazione criminale nell'economia. E se si va a leggere il distretto di Bari è messo allo stesso livello dei distretti siciliani, di un distretto della Campania e dei distretti calabresi. Andando a chiedere il dato specifico, perché ho chiesto a chi ha stilato quel lavoro, datemi i dati specifici relativi alla provincia BAT, scopro che la provincia BAT poi è comunque posta ai primissimi livelli in ambito nazionale, tra le prime dieci province. Questo è un dato assolutamente allarmante. Rispetto a questo si è continuato a verificare cosa succede. Ci sono delle mafie in questo territorio, mafie autoctone di questo territorio, ci sono i condizionamenti delle altre mafie, e soprattutto c'è una forma di criminalità estremamente diffusa. Mettere insieme questi elementi, offrire a chi ne ha il compito una chiave di lettura per capire quali risorse poi devono essere messe sul territorio, per me era un compito importante. E devo dire che ho incontrato in questo l'aiuto, la collaborazione della Direzione del Stettore Antimafia di Bari, che ha fatto la sua parte, della Direzione Nazionale Antimafia, che ha elaborato a sua volta ulteriori dati. Attualmente possiamo, purtroppo con preoccupazione, ma sulla base di dati ben individuati, dire che la situazione criminale del territorio dell'Abat è una situazione preoccupante. Lei parla di mafie del territorio, autoctone. Sono organizzate? Assolutamente sì. Premesso che le mafie, se parliamo di organizzate, ciascuna di esse è evidentemente organizzata nella misura in cui la mafia deve essere organizzata, un elemento strutturale l'organizzazione della mafia. Ma non sono necessariamente, non lavorano necessariamente in network. Il network, o per così dire, la collaborazione tra clan diversi, non assume la struttura tipica, ad esempio, dei clan siciliani. Quindi sostanzialmente si stanno dividendo il territorio? Guardi, c'è un'apertura nei confronti delle altre forme criminali a consentire anche la commissione di reati nel territorio a lasciare depredare il territorio. Le faccio un esempio. Andando a rivedere tanti episodi del passato di rapini a portavalori, di fenomeni importanti di rapini alle banche o rapini ai tir, abbiamo scoperto che in molti casi persone nate in questo territorio, il mio territorio comprende anche Corato, comprende Canosa, comprende Molfetta, comprende Andria, Barletta, persone di questo territorio commettevano il reato con calabresi, con siciliani, con campani, con foggiani. Cosa significa? E perché questa insolita apertura? Ecco, molto spesso si commettono reati anche in concorso con altri, senza considerare che in questo modo il territorio viene depredato. Questo è un fattore di moltiplicazione, cioè la preoccupazione aumenta nella misura in cui si rendono possibili incursioni da parte di altri. Ho dovuto in alcuni casi specificare questo dato. Quando noi studiamo le mafie, il cliché della mafia siciliana di Cosa Nostra, quella che tutti abbiamo imparato in qualche modo a conoscere, non è lo stesso che si replica in tutte le regioni. Sbaglieremmo se considerassimo le mafie tutte uguali. La mafia siciliana è diversa da quella calabrese, da quella evidentemente campana ed è soprattutto diversa da quella di questo territorio. In questo territorio l'affare, il profitto, è l'immediato obiettivo che il mafioso si pone. In questo è pronto anche, come dire, a non avere il controllo esclusivo del territorio e lasciare che altri possano occuparsene. Ci sono tanti reati di cui le mafie, per così dire, nostrane, non si occupano. Ma questo in maniera, come dire, ormai sedimentata, studiata. La prostituzione è difficilmente oggetto di attenzione da parte delle mafie, delle mafie del barese, del nord barese o del foggiano. E' più facile che si lasci che questo territorio, questo settore economico, per così dire, venga gestito dalle mafie straniere. Questo ne è un esempio. In altri casi, invece, le mafie controllano totalmente il territorio e lo si vede, a contrario, dal fatto che non ci sono procedimenti in quei territori contro associazioni straniere. Qui, invece, siamo abituati a considerare la presenza anche di una criminalità straniera, a volte mafiosa, a volte no. Lei prima ha parlato di infiltrazioni nell'economia come uno degli elementi che preoccupa maggiormente. In che cosa si manifesta? Guardi, dobbiamo distinguere due fenomeni distinti. Un fatto è l'infiltrazione della criminalità di tipo mafiosa nell'economia. Un altro fenomeno è la deviazione che all'interno dell'economia l'impresa può avere verso la criminalità. E questo è un fenomeno di gran lunga più diffuso e penso di poter dire persino dilagante. Questo è un territorio in cui l'impresa è abbastanza capace di prosperare ma anche presenta in alcuni casi delle forme di deviazione. C'è un'impresa assolutamente onesta che deve concorrere quotidianamente con una pluralità di imprenditori che invece, per esempio, le faccio davvero un esempio, sistematicamente ricorrono al mancato pagamento delle imposte come forma di finanziamento. Lo stiamo registrando grazie ad un contatto periodico costante proprio qui nel mio ufficio con la Guardia di Finanza e con l'Agenzia delle Entrate. Periodicamente facciamo il punto della situazione. Cerchiamo di capire, di mettere a frutto quali sono i nostri strumenti, di mettere a frutto le nostre conoscenze e cercare di individuare quei contribuenti che in maniera sistematica non pagano le imposte al solo file di finanziarsi e in questa maniera di fatto svolgono un'attività in modo molto sleale rispetto agli altri imprenditori che devono sostenere dei costi che gli altri non sostengono. Questo è un esempio molto banale ma in realtà potremmo allargare. Vi è poi un'impresa che invece è sistematicamente vittima della criminalità. Abbiamo avuto episodi di estorsione diffusa nel territorio di Trani. Penso in particolar modo al mondo della ristorazione e qui è importante reagire non soltanto con le indagini ma anche con strumenti che consentono all'impresa di potersi fidare, di potersi affidare alle istituzioni. Procuratore, ci sono due situazioni su tutte che negli ultimi tempi hanno destato parecchie preoccupazioni. Il caso Barletta con gli omicidi ferati di due giovani e poi il caso Canosa con le lupare bianche. Che cosa sta succedendo? Cosa è successo? E soprattutto sono due fenomeni che possiamo dire arginati? Allora sono dei fatti reato rispetto ai quali la reazione dello Stato ovviamente il processo si svolgerà e consentirà di accertare le responsabilità ma la reazione dello Stato almeno sul piano cautelare è stata pressoché immediata. E non è stato semplice, mi consenta di dirlo, riuscire ad arrivare almeno per ciò che riguarda i procedimenti di competenza del mio ufficio quello invece delle lupare bianche di competenza della direzione di settore antimafia non è stato semplice giungere ad un risultato in tempi brevi perché questo, è forse il caso di precisarlo, è un territorio in cui in realtà la rete dei servizi di polizia giudiziaria è letteralmente sottodimensionata e notevolmente sottodimensionata rispetto a quello che sarebbe l'effettivo fabbisogno. Riuscire ad ottenere quei risultati ha comportato uno sforzo particolare non soltanto da parte del mio ufficio ma anche da parte in quel caso dei servizi di Barletta penso al commissariato di Barletta, alla squadra mobile di Andria ma anche al nucleo investigativo e alla compagnia dei carabinieri di Barletta ottenere quei risultati con le poche risorse a disposizione non è stato affatto semplice e tuttavia un risultato lo si è avuto. Penso di poter dire in almeno due di quei tre casi decisivo, rilevante è stata anche l'acquisizione delle immagini delle telecamere di videoserveglianza altro tema su cui stiamo lavorando in maniera pressoché sistematica perché questo strumento venga in qualche modo accolto anche dalla stessa impresa in generale un tema sul quale potremmo parlare in un momento diverso perché assai più complesso. Dicevo abbiamo ottenuto un risultato definitivo? Sicuramente no. Al di là del fatto che, ripeto, il processo dovrà stabilire le specifiche responsabilità con riguardo alle condotte che oggi sono contestate ma è chiaro che emerge tutto un contesto che richiede un'azione di contrasto da parte dello Stato molto più organizzata così come è organizzato il crimine lo Stato deve organizzarsi fronteggiandolo con le risorse adeguate. Quelle risorse allo Stato ancora non ci sono. Complessivamente, lei ritiene che questo sia un territorio sicuro o no? Guardi, quanto le dicevo adesso, credo che la dica lunga sul mio approccio. Io con onestà devo dire che l'impegno sotto il profilo delle risorse delle forze di polizia messe sul campo da parte dello Stato non è ancora sufficiente. Io ho provato a fare anche un ulteriore discorso. Non mi sono limitato a fare la ricostruzione dell'analisi criminale del territorio. Ho provato anche a dire quante sono le risorse nell'Abbate e quante sono in un'altra provincia che ha lo stesso numero di abitanti. Le ho messe a confronto. Ho creato due colonne. In ciascuna ho messo le risorse esattamente a disposizione. C'è un divario che è straordinario. Inspiegabilmente le risorse di cui può beneficiare l'Abbate sono nettamente inferiori. Con quelle risorse noi non siamo in grado di mettere in campo una strategia complessiva. Io le dico con franchezza che io ho difficoltà a metter su una, più di una squadra investigativa, di due squadre investigative in materia di corruzione. Eppure le notizie di reato che abbiamo sono tante. Il fenomeno dei furti di auto. Tutti sanno che questa è la prima provincia in Italia. Ma è mai possibile che la polstrada di questo territorio, credo che non vada oltre due, tre persone. E si devono occupare anche di incidenti stradali. Non è pensabile che, ad esempio, non sia in grado di mettere più squadre che contemporaneamente fronteggiano il fenomeno delle rapine in appartamento. Oggettivamente io ho riportato questi dati, ovviamente a tutte le autorità nazionali competenti. C'è stata una qualche risposta, un potenziamento. Le piante organiche che erano state previste sono state in buona parte riempite, ma erano piante organiche del tutto insufficienti rispetto all'esigenza del territorio. Devo darle una risposta, se questo territorio è sicuro. Devo dirle in primo luogo che dallo Stato mi devo aspettare di più. Mi devo aspettare che maggiori risorse siano assegnate a ciascuna delle forze di polizia. Perché l'impegno che ciascuno di essi sta mettendo è un impegno che, devo dire, in alcuni casi li vede lavorare, a volte abbiamo due o tre micidi di seguito, il che significa che vede lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria, che lavora per due o tre giorni di seguito senza potersi permettere di interrompere, perché non a chi lo sostituisce. Rispetto a questo, allo sforzo che chiedo quotidianamente anche ai miei colleghi sostituti, a tutto il personale amministrativo, io devo dire che uno sforzo ulteriore da parte dello Stato può essere fatto.